Thor è una figura centrale nella mitologia norrena, con una storia ricca e piena di avventure, miti e leggende che si sono evolute nel corso dei secoli. Nella mitologia norrena, Thor è il dio del tuono, figlio di Odino e di Gjord, la personificazione della Terra. Il suo martello, chiamato Mjolnir, è uno degli oggetti più potenti e iconici dell'universo mitologico norreno. Thor è noto per le sue imprese eroiche e la sua forza sovrumana. Spesso affronta nemici formidabili come giganti e serpenti, dimostrando la sua abilità nel combattimento e la sua natura coraggiosa. Una delle sue avventure più famose è il viaggio per recuperare il suo martello Mjolnir, rubato da Tyrim, il signore dei giganti, che lo aveva sepolto nel cuore della Terra. Con l'aiuto di Loki, Thor riesce a recuperare il suo martello e a sconfiggere Tyrim. Thor è anche un difensore degli dei e degli uomini. Protegge Asgard, la dimora degli dei, dagli attacchi dei nemici e partecipa alla difesa della Terra contro le forze del caos e del male. La sua forza e il suo coraggio sono spesso mescolati con momenti di ingenuità e impulsività. Nonostante la sua potenza, Thor non è immune ai tranelli e alle insidie, e talvolta ha bisogno dell'aiuto degli altri per superare le sfide che incontra. Nelle storie norrene, Thor è spesso accompagnato dai suoi fidati compagni, tra cui Loki, il dio degli inganni, e il fedele guerriero Sif. Insieme, affrontano avventure e pericoli, dimostrando così il potere dell'amicizia e della cooperazione. Thor è anche associato al ciclo delle stagioni, poiché il suo martello miolnir è associato alla pioggia e al tuono, che sono considerati essenziali per la fertilità della Terra. La sua figura è quindi strettamente legata alla natura e ai suoi cicli. Nonostante la sua natura guerriera, Thor è anche celebrato come un dio della fertilità e della protezione. Le persone si rivolgono a lui per chiedere protezione e benedizioni, specialmente durante le tempeste e i momenti di pericolo. Nella cultura contemporanea, il personaggio di Thor è stato reso ancora più popolare grazie ai fumetti Marvel e ai film cinematografici, che hanno contribuito a diffondere la sua storia e il suo mito a livello globale. La sua figura continua così a ispirare e affascinare persone di tutte le età in tutto il mondo. Uno degli aspetti meno conosciuti ma affascinanti di Thor è il suo profondo legame con gli umani, nonostante sia una divinità. Egli è spesso visto come un protettore degli agricoltori e dei marinai, coloro che più dipendono dagli elementi naturali che Thor controlla. Questo collegamento con gli aspetti più quotidiani della vita umana mostra un lato più terreno e accessibile del dio, a differenza di altri dei più distaccati e astratti nella mitologia norrena. Nel Ragnarok, l'apocalisse della mitologia norrena, Thor svolge un ruolo cruciale. È destinato a confrontarsi con il serpente Jormungandri, il nemico mortale che risiede circondando il mondo. Nel corso di questa battaglia epica, Thor riesce a uccidere il serpente ma cade vittima del suo veleno mortale, facendo solo pochi passi prima di crollare. Questa tragica fine sottolinea così il suo ruolo di eroe sacrificale, che protegge l'ordine cosmico anche a costo della propria vita, rafforzando la sua immagine di difensore sia degli dei che dell'umanità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.